Mascherine di protezione a disposizione dei cittadini di Fossacesia, oltre 2.000 pezzi che unitamente ad altri 700 donati sono consegnati a tutti i nuclei familiari. Al fine di evitare assembramenti la distribuzione avviene in diversi punti della città, in date, orari differenti e secondo ordine alfabetico, come dettagliato nel calendario pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e sui social del comune. A lavori volontari della protezione civile con una singola mascherina per nucleo familiare perché al momento, come ha spiegato il sindaco di Giuseppe Antonio, sono queste le risorse di bilancio disponibili sia perché di fatto e per motivi di effettiva necessità si può uscire una sola persona per famiglia. Molte famiglie hanno donato anche da 100 mascherine, anche la scuola, la classe quarta e quinta delle elementari hanno donato i soldi della gira scolastica, l'hanno donati con le mascherine per la popolazione, per cui altri cittadini hanno rinunciato alla propria perché ne avevano di personali per gli altri che non ne avevano la possibilità di acquistare. Quindi c'è molta solidarietà per la cittadinanza e il rispetto delle regole, questo bisogna dirlo. Instancabile anche l'associazione NOVS, il nucleo operativo volontari della sicurezza, presidente Cristian Laudadio, che ha consegnato a varienti altre 500 mascherine prodotte da progetto tenda. Dispositivi portati direttamente alla residenza per anziani Buon Samaritano, alla caserma dei Carabinieri e alla polizia locale, poi padri passionisti, parrocchie, studi medici, comuni di Treglio, Frisa, Le Contrade, spirito dell'associazione, proprio quello di proteggere. E quale occasione migliore?